Dopo il grande successo della prima edizione, anche quest'anno Piazza d'Armi a Torino si trasforma in una palestra a cielo aperto con oltre 30 campi prova per altrettante discipline sportive e aree allestite dedicate al benessere psicofisico, alla sana alimentazione e al fitness. L'evento, il cui ambasciatore Alessandro Del Piero, è organizzato con la collaborazione degli Stati Generali dello Sport del Consiglio regionale ed è stato presentato nella sede di ADP Log. Il Consiglio regionale ancora una volta è attivo in un'iniziativa che unisce salute, sport e prevenzione. Consiglio regionale, io aggiungerei gli Stati Generali dello Sport. Noi come Stati Generali abbiamo il dovere di intercettare tutte le iniziative virtuose che vengono sviluppate sul territorio finalizzate a modificare gli stili di vita, in pratica ad alimentare le buone pratiche, perché un'attenzione all'attività fisica, una promozione dell'attività fisica e un'attenzione alla giusta alimentazione aumenta il benessere della persona, c'è più risparmio sui fondi della sanità e quei risparmi possono essere sicuramente dedicati al benessere delle persone. E quindi il sottoscritto in qualità di Presidente del Consiglio regionale e Presidente degli Stati Generali dello Sport ha il piacere di patrocinare e di fare proseliti sulla promozione dell'attività fisica.